Nella sala rossa del comune di Pesero tra il sindaco Ricci e quello di Monbaroccio Angelo Vichi è stato firmato questo pomeriggio l'accordo politico programmatico per la realizzazione del progetto di fusione per incorporazione del comune di Monbaroccio nel comune di Pesero. Quello che in realtà avverrà tradotto in soldoni al comune di Monbaroccio e a quello di Pesero se il 17 di aprile prossimo passa il sì. Naturalmente tutto è vincolato al volere dei cittadini in caso del no. Naturalmente tutto si ferma. Come dice il sindaco di Pesero Matteo Ricci i rapporti di forza sono cambiati. Sentiamo perché. Sì, se prima della fine dell'anno la convenienza era divisa al 50% tra Pesero e Monbaroccio oggi la convenienza è al 90% per Monbaroccio. Come penso i cittadini cominciano a sapere Pesero ha sbloccato 30 milioni di euro di investimenti che non ha bisogno della fusione per sbloccare gli investimenti. Mentre Monbaroccio senza questa fusione non farebbe mai 5 milioni di investimenti che oggi abbiamo confermato neanche nei prossimi 20 anni. Dal punto di vista del contributo dello Stato invece il danno è per tutti. Abbiamo già perso 2 milioni e mezzo a causa di questo ricorso assurdo. Se recupereremo e vincere al sì ne avremo persi solo 2 e mezzo altrimenti ne avremo persi 20 e mezzo. Cioè il contributo che lo Stato dà per 10 anni a un comune come il nostro. E tutti i soldi che andrebbero sui servizi sociali, sulle scuole, sulla cultura, cioè sulla parte corrente del bilancio. Noi ci crediamo molto perché vogliamo comuni più forti, più innovativi, che risparmiano risorse, che fanno le cose negli interessi dei cittadini. Ed è una fusione che garantisce autonomia a Monbaroccio perché Monbaroccio rimane municipio, avrà potere decisionale su ogni questione di Monbaroccio che quindi ha vincolo, diciamo, il parere vincolante su ogni questione di Monbaroccio e quindi ottimizza tutti i vantaggi e il tempo stesso garantisce un'autonomia decisionale. Non ci sono altre strade da percorrere, dice il sindaco di Monbaroccio Angelo Vichi. Se ci fossero state le avremmo prese in considerazione. Questa è l'unica strada percorribile per assicurare al comune di Monbaroccio e ai monbaroccesi servizi e supporto adeguato al rilancio di una cittadina così importante. Sentiamo le sue parole. I primi tre anni daranno al nostro territorio un contributo per investimenti per 5 milioni di euro, pensabile prima. Ma anche dopo, dai successivi anni e fino alla fine del decimo anno, sempre che poi non ci sia un'ulteriore provvidenza, noi avremo da gestire, oltre a quelle che sono le spese ordinarie, le gestioni ordinarie del nostro territorio, avremo una cifra. E anche questa è scritta qui, di 570 mila euro in più rispetto al budget ordinario di quello che è il nostro comune, col quale potremmo dare un incentivo ulteriore a tutti quelli che sono i servizi. Veramente potremmo diventare, grazie, come si dice, io dico sempre, si chiude una porta e si apre un portone. Da una situazione di crisi come quella che inevitabilmente oggi vediamo che c'è, ne può uscire fuori con questo atto una situazione, tra l'altro, di una, ma io dico, utilissima, importantissima, che non avremmo mai potuto pensare.